Quello che noi rileviamo è assolutamente la mancanza di denunce perché evidentemente molto è collegato anche alla disponibilità economica delle vittime perché certamente rendere liberi anche economicamente ti dà anche la possibilità di affrontare la vita in maniera differente con una prospettiva di libertà. Io penso che non si può delegare tutto agli organi di polizia o alla magistratura. Se noi vediamo che ci sono giovani, ragazzi, ormai si è abbassata l'età dei maltrattanti, vediamo che sono ragazzi, allora vuol dire che qualcosa non ha funzionato, la famiglia, la scuola. Quindi lei parla di una responsabilità morale da parte della società? Ognuno di noi ha una forma di responsabilità perché anche accorgersi di segnali che inevitabilmente poi ci sono, com'è possibile che tante volte anche segnali non vengono letti nel modo giusto da chi sta vicino alla vittima? Su questo c'è da pensare, quindi assolutamente io quello che vorrei dire è di avere fiducia nelle forze di polizia, di denunciare, perché la violenza da sola non si combatte, si combatte con l'aiuto degli altri.